Ciao a tutti ragazzi, buon venerdì e benvenuti a Videogame News, la rubrica di EveryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Cominciamo la puntata di oggi parlandovi di Microsoft, che ha finalmente annunciato i giochi che verranno resi disponibili con il programma Games with Gold nel mese di ottobre. Per i possessori di Xbox 360 si parla di Darksiders 2 e Battlefield Bad Company 2. Più magra invece è l'offerta per i possessori di Xbox One, abbiamo soltanto il gioco noto come Chariot, si tratta di un indie sviluppato dalla software house canadese Frima e fa parte del programma ID at Xbox. E passiamo a Sledgehammer Games, il cui CEO Glenn Schofeld ha recentemente affermato su Twitter come la campagna di Call of Duty Advanced Warfare sarà più longeva rispetto a quella dei precedenti capitoli della saga. Non è sceso in dettagli, quindi ancora non possiamo ipotizzare un effettivo conto ore, ma speriamo che soprattutto la campagna possa rivelarsi più coesa dal punto di vista narrativo. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal prossimo 4 novembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One ed Xbox 360. Bayonetta 2 è uscito ufficialmente in Giappone il 20 del mese e arrivano i primi risultati di vendita. In 5 giorni il gioco ha piazzato circa 40.000 unità. Si è guadagnato comunque il terzo posto in classifica, ma si tratta di un risultato deludente, soprattutto se confrontato con quello del primo episodio, che nello stesso periodo era riuscito a piazzare 200.000 copie in combinata tra PlayStation 3 e Xbox 360. Rimanendo sempre in tema Wii U, i possessori della console di Nintendo rimarranno purtroppo senza il supporto post-lancio legato a Watch Dogs. Ubisoft ha infatti confermato come il DLC ha rilasciato recentemente per le console invece Microsoft e Sony e anche su PC, non vedrà mai la luce sulla console di Nintendo. Si tratta purtroppo di un annuncio piuttosto preoccupante che sicuramente non aiuterà le vendite del gioco quando arriverà sulla console di Nintendo a novembre. Kingdom Hearts 3D è uno dei pochissimi giochi della saga a non aver ancora ricevuto un remaster HD. Lo ricordiamo, si tratta di un'esclusiva per Nintendo 3DS. Le cose tuttavia potrebbero cambiare nel prossimo futuro. Infatti il producer Tetsuya Nomura ai microfoni di Famitsu ha recentemente affermato come potrebbero esserci dei piani per portare il gioco anche su home console. La cosa potrebbe richiedere tuttavia un po' di tempo perché al momento gli sviluppatori sono molto concentrati sul terzo capitolo che lo ricordiamo sarà in uscita in futuro per Xbox One e PlayStation 4. Xenoblade Chronicles è il primo e ad oggi anche l'unico titolo annunciato in esclusiva per il new Nintendo 3DS. La casa di Kyoto ha recentemente confermato come lo splendido JRPG di Monolith Soft sarà disponibile anche in occidente in concomitanza con l'arrivo della nuova console. In Giappone lo ricordiamo sarà acquistabile dall'11 ottobre mentre invece in Australia e Nuova Zelanda il 21 novembre. Ancora non abbiamo una data precisa per la commercializzazione europea che comunque in ogni caso arriverà nel 2015. E passiamo adesso come di consueto alle nostre personalissime top e flop news. Il top di questa settimana non possiamo non assegnarlo a Microsoft e i Playground Games per forza Horizon 2. Già recensito sulle nostre pagine il gioco si è rivelato davvero un ottimo corsistico arcade sicuramente da consigliare a tutti gli appassionati del genere grazie alla ricchezza dei contenuti, al free roaming ben sviluppato e ad un comparto online veramente divertente. Il flop di questa edizione spesta invece purtroppo a Blizzard. La casa ha infatti annunciato che dopo ben sette anni di sviluppo in gran segreto Project Titan, ossia l'MMO che doveva raccogliere l'eredità di World of Warcraft, è stato cancellato. Mike Moraine non è sceso troppo in dettagli sui contenuti ma alcuni membri della società che hanno voluto rimanere anonimi hanno rivelato come si trattasse di un gioco molto particolare che avrebbe permesso ai giocatori di svolgere delle attività lavorative piuttosto tradizionali di giorno e poi invece di combattere in via del tutto segreta di notte. Purtroppo non vedrà mai la luce e del resto non era mai neanche stato ufficialmente annunciato. Adesso sarà interessante vedere quali saranno i piani di Blizzard per il futuro. E con questa notizia anche per oggi era tutto. Noi vi diamo appuntamento come sempre al prossimo martedì. Ciao!